Ragazzi e ragazze vi diamo il benvenuto su Cassius Drums, oggi il nuovo ospite Stefano Testa, ciao Stefano Eccoci, buongiorno a tutti e grazie Luca dell'ospitalità Grazie mille a te Stefano, per chi non lo conoscesse, è il Product Specialist di Geva e oggi andremo a vedere lo strumento che già vedete montato qua, che è la Geva G5, giusto? G5 Pro Ok, allora è la prima volta che vedo questo strumento perché io sul canale ho già provato la Geva G9, la Geva G9 vi lascio qui sotto in descrizione il video 30 secondi 30 Cosa vediamo oggi? Allora oggi ci addentreremo nelle specifiche di questo strumento velocemente perché non possiamo fare video troppo lunghi Da tre ore e mezza Da tre ore e mezza, parleremo di alcune funzioni della Centrania G5, ascolteremo alcuni suoni, suoneremo, parleremo delle differenze dei vari modelli e parleremo del catalogo Geva e dei vari modelli che potete trovare anche sul sito Ok, quindi praticamente oggi io sono l'intervistatore, diciamo, quindi farò tutte le domande che mi vengono in mente e lui risponderà a tutto quanto perché veramente Stefano sa tutto di queste batterie, tra l'altro vi lascio anche, ve lo dico già subito il suo canale qui sotto dove ha spiegato un bel po' sulla Geva G9 Sì Ha suonato, quindi potete sentire e capire tutto su queste batterie Basta così, 30 secondi li abbiamo già passati mandiamo la sigla e poi partiamo subito Ok, molto bene, allora partiamo subito andando a capire come funziona la batteria Tra l'altro un po' seggiolino, devo dire, fa un po' gnini Background Vabbè, gli ascoltatori, scusate, mi dispiace Ho visto che la batteria sembra acustica Sì A vedere Perché ha i fusti grandi, la finitura, devo dire, molto bella Black Sparkle Black Spark bellissima, tra l'altro mi metto poi qualche b-roll per farvi vedere bene da vicino com'è la batteria molto bella E spiegaci un po', grandezze, profondità, piatti, cose Allora, le Geva Gigi Saldra si dividono in tre macro-categorie Che vanno di pari passo con le tre centraline Qui abbiamo una G5 Abbiamo anche G3 e G9 E ci sono altre tre macro-categorie che vanno di pari passo con i fusti Ok Studio, che sono dei pad normalissimi Questi che vedete sono dei Pro, di profondità reale, simile acustica E i Club, che sono la via di mezzo, quindi dei fusti reali ma di profondità ridotta Ok L'abbinamento di centralina e fusti danno vita all'intero catalogo Geva Ok Quindi qui nella fattispecie abbiamo una G5 Pro Perfetto Quindi in pratica noi abbiamo la centralina che dà, tra virgolette, il numero Cioè G3, G5 e G9 Esatto E la tipologia di fusti che dà il nome Esattamente Ok, quindi fusti piccolissimi Cioè pad Pad, bravo Pad un po' più grandi e pad ancora più grandi, più profondi e reali Esatto In pratica Ok, molto bene I piatti invece sono solo due e sono gli stessi nell'intero catalogo Quindi top di gamma anche sui modelli entry level Perfetto Ok E come dicevo sono due, un 14 e un 18 Il 18 è esclusivamente da usare per il ride Il 14 per qualsiasi altro piatto Incluso la YET E anche il controller della YET è universale Ok Quindi come dicevamo prima, anche sui modelli entry level La YET è identica a questo Ok Quindi top E tra l'altro Se sono identici Sì Vuol dire che anche su questi Che mi ricordo è una roba che mi era piaciuta un sacco I pad dei piatti sono fatti in base ai PiS 2002 Su misura dei PiS 2002 come forma e scampanatura Ok, ok Devo dire che anche suonandoli effettivamente hanno abbastanza Ricordano un po' il peso e la deformazione Esatto, esatto Quindi molto bello Ok, ok Quindi per concludere questa prima parte Parti della batteria top di gamma Anche sui modelli entry level Figo Figata Figata Questo è un modello medio Sì Medio alto Medio alto Sì, sì Tra i tre G3, G5, G9 Esatto E ok Quindi molto bene direi adesso di sentire qualcosa Come no Ci fai sentire qualche suono? Certo Ok, allora io mi metto le cuffie Qua tagli tutto, sì Tengo qualche pezzettino Ottimo Ok, quindi avete la possibilità di vedere anche la centralina da questa camera qua in alto Così almeno capite che cosa sta succedendo Partiamo dal primo suono che c'è Quindi accendi Accendi Primo kit American Vintage Prima di farvelo sentire Voglio precisare che su tutta la gamma Gava Digital Drums E su tutte e tre le centraline i suoni sono sempre gli stessi Ok Quindi anche qui Modello in tri level Ha gli stessi identici drum kit E suoni del modello ultra pro Perfetto Ok Allora sentiamo qualche suono Poi ti chiedo una cosa Come no Ok Si ferma il piatto Ok perfetto Beh quella è una roba che non hanno tutte le batterie Quindi non è una cosa per niente scontata No Oltretutto i piatti sono tutti tripla zona Comandati da un solo jack stereo Ok Quindi le campane non necessitano di un secondo jack Ah ok Che vuol dire che avete un ingresso trigger in più libero E in più avete le campane anche su tutti gli altri piatti Ottimo A cui non è necessariamente obbligatorio abbinare il suono di una campana Ma anche di uno splash Ma anche di uno splash Di un cowbell Di quello che volete Totalmente modificabili Ok ok perfetto Figata Allora vado avanti io Con i suoni Si Vediamo che cosa c'è Ah Collectors Immagino sia Dv Esatto Tutti i suoni dalle Geva Sono tutti campionati al fancausa studio di Berlino Da batterie e piatti reali dei marchi Geva Quindi Dv Paist Grecce E tutti inseriti nelle tre centraline Ok Quindi Facci di dire Collectors Fico Fammi sentire Tom Ok Allora devo dire Questione sensibilità pazzesca Pazzesca Più che altro sui Tom Il problema delle elettroniche Che c'è di solito È il fatto che quando vai giù di dinamica Scompare Scompare Esatto Diventa tutto Su queste invece Ciò non accade unicamente No veramente Beh penso che siano comunque Multicampionamenti Sono multicampionamenti Fino a otto round robin Quindi ogni layer Ha otto suoni diversi Ok Tutte le volte che suoni Esatto In modo da non riuscire A replicare lo stesso Identico suona Nonostante due colpi Alla stessa identica dinamica Ok Faccio veramente fatica Basta cambiare un attimo la zona Sull'esterno Si sente addirittura Un campione più esterno Pazzesco Pazzesco Che ha Molta meno punta E molto più corpo Sì sì Bellissimo Bellissimo Bellissima sta roba assurda Cioè è veramente È veramente acustica Sì Mi verrebbe da suonare Puoi stoppare La pelle Sì esattamente Figata Sentiamolo ancora uno Vado avanti io Te ne consigliono io Metal 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 Se vuoi fare metal Questo è veramente Adatto È il suono È il suono Figata Figata Molto bene Fammi sentire ancora una scusa Perché ho visto prima Fatboy È tipo Fatboy È adatto per il rock Bello distorto Sì Bellissimo Poi è meglio Dullanti così Fanno impazzire Esatto Non per forza È un'effettistica Esagerata Da vita È una dinamica Inesistente Anzi Anzi Ce n'è La sufficienza Assolutamente Assolutamente E ok Allora Suoni vabbè Pazzeschi Poi ce ne sono una marea Non so quanti ce ne siano Ma veramente Sono 40 drum Di default Espandibili Perché sul Geva Cloud Geva mette a disposizione In download Altri suoni Altri drum kit Costantemente aggiornati Ok Perfetto Perfetto Figo Allora Adesso voglio chiederti una cosa Però Mi hai detto Tamburi I piatti Sono sempre uguali Sì Qualsiasi tipologia Sì I suoni Sono sempre uguali Qualsiasi tipologia Cosa cambia? Le differenze Tra le tre centraline Sono veramente poche Ok Per quanto riguarda Lardo Piatti e fusti L'unica differenza È la grandezza Dei vari pad O dei vari fusti Ok Per quanto riguarda Invece Aste Meccaniche Piatti e piatti Tutti uguali Forse Però in base a quella Che ho provato io La G9 Ha un pezzo in più La G9 Ha la possibilità Di avere un kit Con un timpano in più Da catalogo Ok Infatti Sì 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 Perché quella che mi era arrivata Era due ton due timpani Volendo sì E invece Questione sua Sulla parte software O centralina Qui abbiamo la G5 Che è molto simile A una G3 Ok Tra l'altro Già che ci siamo Prata la G9 Ho provato La G5 A sto punto Se volete un video Sulla G3 Scrivete qui sotto Nei commenti E così Come no Perfetto Vai pure avanti Le differenze tra G5 E G3 Stanno soltanto In Un numero Di pulsanti Leggermente maggiore Per quanto riguarda La G5 Perché è più grande Certo Ok Due ingressi Trigger e aggiuntivi E Quattro Direct Out Sul pannello Posteriore Ok Altre differenze Non ce ne sono E invece Tra G5 E G9 Tra G5 E G9 La G9 Che oggi qui non abbiamo Ma sul canale di Luca E sui miei canali C'è pieno di contenuti Tutta in descrizione Ha innanzitutto Un display touch Sì mi ricordo Completamente touch E Oltre a tutte le funzioni Di G3 E G5 Ha tre o quattro funzioni Secondarie Che si possono utilizzare Solamente con il touch Quindi sono legate ad un aspetto visivo Più che altro Ha una memoria interna Cosa che G5 e G3 non hanno Si può solamente usare la chiavetta USB Ok E la G9 Ha anche wifi E bluetooth Ok perfetto Adesso che hai detto Della questione USB Tra l'altro La figata anche di questa qua È che puoi registrare Esattamente Esattamente Da questo pannellino qua Giusto? Sì Ok Quindi Allora Tu attacchi l'USB Sì Sopra puoi avere anche delle canzoni Puoi avere di tutto Ok Fai partire le canzoni E poi Puoi registrare Quindi in pratica Se tu hai questa batteria qui Non ti serve scheda audio Non serve niente Nulla Ok Le centraline creeranno un file wave stereo Di ovviamente Tutti i suoni che andrete a suonare Come li state sentendo adesso Esattamente E basterà schiacciare stop Per salvarlo Sulla pennetta E lo avrete a disposizione Pigli Metti nel computer Carichi Carichi Invii Workstation Perfetto Ottimo Figata 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 Dove volete Ok Allora Adesso Con la centralina Ti torno Sul primo Kit Che era American Style American Vintage Ok E ti chiedo Questione effetti Cosa si può fare Allora Principalmente Ti direi Per una questione di gusto Anche meno Reverberi Perché Sono quelli che poi danno Proprio la pancia Esatto A ciccia Quindi fammi vedere Allora L'effettistica di questa G5 Come dicevamo prima Identica G3 G9 Si divide In quattro macro categorie Ambient Instrument Reverb Room Reverb E Multi Effects Ok Tu Vuoi un bel reverb Lo potresti farlo Con i primi tre A seconda del tuo gusto Ok Quindi il reverb È abbastanza importante Come Sì Sulla centralina Diciamo che Il numero di Di effetti possibili Di modifiche possibili È esagerato Ok È enorme Non mi voglio neanche Addentrare Certo Chissà che Guardiamo l'ambient L'ambient È uno dei più carini Perché come vedete È molto scarno Sì Perché gli effetti ambient Sono come i suoni Campionati Al fancao studio di Berlino Quindi sono i suoni Della stanza di ripresa Di questo studio Che hanno usato E inseriti Kit per kit Nell'effetto ambient Amazzo Quindi sono Veramente È la room È la room Di quei kit È la room Ok figata Adesso siamo a meno 20 Quindi abbastanza bassino Sì Se te lo tiro su Vai Tom Esatto È subito Pil colliz Subito Subito Figata Io mi prendo sempre bene Per questi Per i riverberi Quindi voglio vedere Come funzionano Gli altri Vado giù Clicco Sì Qui ti si apre Hai un po' più di possibilità Vediamo quello che c'è già impostato Che è un plate Sì Siamo a 41 dB Meno 41 dB Mettiamolo su On Esatto Vai Yes Molto bello Completamente diverso Sì Come tipologia Mi piace questa cosa Perché poi la cosa che faccio io di solito Ad esempio quando mixo Perché poi penso a quella roba lì Sui riverberi È mettere magari un po' di stanza E poi un plate Come in questo caso Chi non sa che cos'è un plate È un riverbero Che però dà Una sonorità sua Una prima riflessione Esatto Quindi gli metti la stanza vera E poi col plate Ad esempio vai a dirgli Un po' più così Un po' più scuro Un po' più chiaro Eccetera Quindi bella questa cosa Di poterli fare insieme E poi MultiFX È se volete andare A mettere degli effetti Sì abbiamo Tutte le categorie Esatto Le categorie di effetti classici Quindi tutti gli effetti matti Che potete fare sulla batteria Matti è il termine giusto È vero È perché alla fine Sono effetti matti quelli Ok Quindi secondo me Abbiamo detto Tutte le cose principali Sì In questa batteria Ovviamente se volete poi Andare a capire Tutto quanto Sulle GEVA Dato che Tu hai fatto i video Sulla G9 Sì Ma da cosa abbiamo capito Quasi tutto quello Che fa la G9 Lo può fare anche La G5 Esatto Come G5 intendo Il modulo Esattamente E ultima cosa Che ti chiedo È Dietro Sì Al modulo Poi chiudiamo Ma mi sono ricordato Questa parte qua Dietro al modulo Abbiamo Inserito tutto Quindi tutti i vari Ingrassi Spinotti Attaccati alla batteria Che cosa c'è di altro? Allora La G5 Ne ha fatti specie Anche Quattro direct out Ok Per simulare una Ripresa Multimicrofonica Ok Completamente modificabili Potete farci uscire Il kick dall'uno Lo snare dal due Dal tre al quattro Tutto il resto Oppure nel tre al quattro I piatti in stereo Come preferite Main out Due line out Aspetta che te lo dico io Ah i midi I due midi Ok Quindi se volete fare Registrazioni midi Esatto Poi un mix in Per l'ingresso audio Ok Perfetto E cosa Un po' nascosta Ma più importante di tutte L'USB Perché con questo USB Con un semplicissimo cavetto Potete collegarlo Al computer A una workstation A una DAV Sì 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 E registrare In multitraccio Fino a dieci tracce Simultaneamente Quindi molto più semplice Che con i Direct Out Della frusta Esattamente Però io in realtà La G9 L'ho usata live Sì Un anno e mezzo fa E questa cosa Di Direct Out Mi era servita Tantissimo Perché io Facevo uscire Dal primo la cassa Dal secondo Rullante Dal terzo I Tom E dal quarto 4 o 5 C'è nella G9 Non mi ricordo La G9 Ne ha 8 Ah 8 Allora no Facevo uscire Molto di più Però questa cosa Di poter far uscire Le cose separatamente Ai fonici Cioè I fonici Sono contentissimi Perché quando gli dai Tutta la batteria Non possono fare niente In pratica Se non alzare Abbassare il volume Di tutta la batteria Così invece Ha molto più senso Quindi Direi che Abbiamo detto Un bel po' di cose Vi ricordo Che questa è la G5 Il video sulla G9 C'è già Trovate qui sotto E vi chiedo Se volete Un video sulla G3 Che è quella Diciamo Uno scalino sotto Ancora la G5 Se lo volete Scrivetemelo Qui sotto Nei commenti Quindi Ringrazio Per prima cosa Stefano Grazie a te Per essere venuto qua Grazie mille E ringraziamo Geva Per averci permesso Di fare questo video Per averci mandato Questo set Molto bello E con questo Ragazzi Iscrivetevi al canale Campanellina Tutte le cose varie Qui sotto in descrizione Avete tutti i link Che vi servono Dalle playlist Del canale di Stefano Al suo Instagram A tutti i link Geva Eccetera Su questa batteria E noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao